Benvenuti all'edizione della sera di Calabria News 24 in forma. In apertura la cronaca sono stati tratti in arresto due dirigenti dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e sospesi dal servizio per un anno altri sette dirigenti e funzionari indagati a vario titolo per concorso in peculato aggravato e favoreggiamento personale. Sono stati sequestrati in totale 300 mila euro. I militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica di Catanzaro hanno eseguito nove misure cautelari nei confronti di dirigenti e funzionari dell'Asp di Catanzaro indagati a vario titolo per concorso in peculato aggravato e favoreggiamento personale. I particolari dell'operazione saranno illustrati in giornata nel corso di una conferenza stampa dal Procuratore della Repubblica che è il dottor Nicola Gratteri, dal Procuratore aggiunto Giovanni Bombardieri e dal Comandante regionale della Calabria della Guardia di Finanza il generale Gianluigi Migliori presso la sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro. Un forte nubifragio ha colpito nella giornata di ieri la città di Scilla. Alcune strade del centro abitato nei pressi del lungomare sono state invase da acqua e fango ed alcune autovetture sono state spostate dal flusso idrico superficiale. Ma gli aiuti sono stati fortunatamente repentini. Sindaco, com'è la situazione? La può vedere pure lei, ci sono difficoltà, è successo l'imponderabile. Quando il paese era partito per fare un'estate meravigliosa invece ci troviamo a dover fronteggiare fortunatamente con l'aiuto di tutti, della protezione civile soprattutto, della prefettura, dei carabinieri, delle forze dell'ordine e dell'ufficio nostro per confrontarci con quest'altro danno che sta ricevendo il mio paese sperando di superarlo, di perdere i meno giorni possibili perché l'estate era che stava camminando velocemente per dare una grande risposta ai turisti e invece così si interrompe e dobbiamo lottare contro questo maltempo. Qual è la zona più colpita di Scilla? La zona più colpita è Marina Grande, la zona di Oliveto, è la zona sulla Costa Viola dove addirittura ha travolto una macchina, fortunatamente il passaggero che era sopra la macchina è riuscito a salvarsi. I danni più grossi, non le persone ma le cose, sono su Marina Grande e sul rione di Chianalea, Oliveto. La macchina organizzativa dei soccorsi è partita subito? È partita subito e ha funzionato bene con le forze dell'ordine, con la prefettura su questo non posso lamentarmi e addirittura adesso mi diceva il vice prefetto che sta arrivando pure l'esercito, quindi per noi abbiamo fatto tutto quello che era in nostro possesso fare anzi forse di più. Ma non è la prima volta che vedevo quello che è successo oggi, l'ho visto anche vent'anni fa, la stessa situazione proprio lì nella fiumara dove è scesa stanotte. Mi diceva prima che è arrivata dall'esercito? Sì, sì, l'ho visto adesso arrivare. Quindi i soccorsi, la macchina organizzativa è partita subito? Subito, subito. Pieri ne saranno arrivati quattro pulmoni, quattro camion stamattina e protezione civile e adesso è arrivato l'esercito. Quasi 5 milioni di euro assegnati al comune di Reggio Calabria e destinati al sostegno per l'inclusione attiva, una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizione di indigenza nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Con queste risorse straordinarie che il comune di Reggio Calabria è riuscito ad ottenere grazie alla partecipazione al Bando 2017 e all'approvazione da parte del Ministero del Piano presentato dal settore servizi sociali comunali saranno attivati 100 voucher formativi, 24 percorsi per creazione di impresa, 100 tirocini per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo delle donne, 15 start-up sociali, microcredito e 20 laboratori di impresa simulata presso le scuole. Si tratta di azioni integrate che riguarderanno ben 500 famiglie. Cambiamo argomento, un importante riconoscimento per la Camera di Commercio di Cosenza inserita nell'Osservatorio Mondiale dell'Ocse. Importante riconoscimento per la Camera di Commercio di Cosenza guidata dal Presidente Claus Algeri. L'Ocse, organizzazione internazionale composta da 35 paesi tra i più importanti al mondo, tra cui l'Italia, che vuole sviluppare la crescita economica sostenibile, ha inserito fra i progetti di innovazione del settore pubblico Open Camera, iniziativa dell'ente Camera Lebruzio. Un traguardo non da poco se si pensa che in tutto sono solo 402 progetti selezionati in tutto il mondo e che Open Camera è stato realizzato a costo zero. Open Camera è quel progetto politico che, l'avete sentito molte volte, dirlo di aprire la Camera, ma aprirla proprio in senso di illuminarla, aprirle proprio le finestre, perché quando ci siamo insediati abbiamo avvertito quell'esigenza che era un ente chiuso, chiusa a se stesso, autoreverenziale. Allora noi con Open Camera abbiamo cercato quel progetto mio politico appoggiato dalla mia maggioranza, dal mio apparentamento in una prima fase, nella seconda fase devo dire di tutte, quindi io ringrazio la Giunta completa e tutti i consiglieri, perché è un successo di tutti quanti noi di avere una, fatemelo dire, anche se è una parola molto pesante, una rivoluzione culturale di un ente pubblico, di un territorio, di averlo cambiato, è quella di portare la Camera di Commercio nel senso fisico dall'imprenditore, non l'impresa che doveva venire qua. Open Camera è quella di aver fatto un bilancio sociale, un bilancio sociale che in realtà ci raccontiamo di tutto, ci raccontiamo delle assenze ai dipendenti, ci raccontiamo quanto noi percepiamo, ci raccontiamo tutto quello che noi abbiamo fatto in un modo trasparente durante l'anno e questo ormai sarà una prassa per tutti gli anni. Con questa carta dei servizi basta con la sempre applicazione del telefonino, mettendolo su e si entra all'interno della Camera di Commercio facendo vedere quali sono i nostri servizi e in realtà quando si è scelto quel tipo di servizio, se si clicca sopra e si ritrova la persona che poi si trova allo sportello che ti racconta come sono i servizi e come si possono in realtà avere questi servizi. Ecco, questo è un modo trasparente che noi abbiamo fatto con Open Camera. Permettetemi di dirlo, anche se è una parola trotta, è stata una rivoluzione culturale, una rivoluzione culturale del nostro territorio, una rivoluzione culturale dell'ente pubblico, una rivoluzione culturale anche dei dipendenti e con a capo, avendo una delega come Presidente da portare avanti di tutti, ma ci siamo messi tutti in gioco, dalla parte dipendente alla parte politica per fare un'unica squadra e ci siamo riusciti, ma vi assicuro che questo è solo, ma solo un inizio. Un'esercitazione molto complessa è stata promossa e coordinata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a Cerchiara di Calabria. Si è conclusa l'esercitazione di soccorso in grotta a grande profondità presso l'avviso del bifurto nel comune di Cerchiara di Calabria in provincia di Cosenza, all'interno del territorio del Parco Nazionale del Pollino, d'opera del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, con la manovra di recupero e l'uscita della barella dall'ingresso della grotta. Un'operazione che ha visto l'alternarsi in maniera continua delle squadre per la progressione sicura della barella e che è stata continuamente assistita da parte dei tecnici e dai sanitari speleologi della Commissione Medica del Soccorso Alpino. Uno degli obiettivi principali di questa esercitazione era testare per la prima volta il nuovo sistema digitale audio-video per le comunicazioni tra interno ed esterno grotta, messo a punto dalla Commissione Tecnica del Soccorso Speleologico. Il sistema ha funzionato perfettamente e ha permesso di comunicare in tempo reale le informazioni dall'interno della grotta al campo base avanzato, situato a pochi metri dall'ingresso dall'abisto dell'ebifurto. Grazie a questo sistema di trasmissione dati è stato possibile seguire le operazioni della manovra direttamente in video e di inviare all'esterno le immagini realizzate all'interno. Questo ha consentito ai sanitari presenti alla tenda medica del campo base avanzato di valutare direttamente le condizioni dell'infortunato attraverso una videoconferenza con i sanitari presenti all'interno anziché tramite la connessione telefonica via cavo fino ad ora utilizzata. Alle operazioni hanno preso parte 100 operatori tra cui tecnici di soccorso speleologico, tecnici di soccorso alpino, medici e paramedici provenienti dalle delegazioni regionali della Calabria, Lazio, Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria e Marche. Per tutta la durata della manovra c'è stata piena sintonia tra le squadre interne e gli operatori in esterno. Tutti hanno lavorato in sinergia e continuità seguendo i protocolli consolidati nel corso degli anni e che garantiscono l'uniformità delle tecniche di recupero tra le varie squadre di soccorso alpino e speleologico provenienti dalle diverse regioni italiane. Ad assistere all'ultima fase delle esecuzioni erano presenti il sindaco di Cerchiara, il dottor Antonio Carlo Magno, il dottor Carlo Tanzi responsabile della protezione civile regionale, e il dottor Riccardo Borselli responsabile della centrale operativa del 118. Cambiamo decisamente argomento storica medaglia di bronzo per il cosentino Giovanni Tocci ai mondiali di tuffi. Un grandissimo risultato ed una grandissima soddisfazione per tutta la Calabria. Il cosentino Giovanni Tocci infatti ha conquistato la medaglia di bronzo nel trampolino da un metro ai mondiali di tuffi a Budapest. Un risultato storico per l'Italia che dopo molti anni torna sul podio in campo maschile in questa specialità. Davanti a lui solo gli irraggiungibili cinesi che si sono portati a casa la medaglia d'oro e quella di argento. La gara di Tocci però ha reso i cinesi per una volta quasi alla portata dell'azzurro. La prestazione di Tocci è stata straordinaria ed il fuoriclasse calabrese è stato capace di dare il meglio anche sotto pressione quando al sesto tuffo si è praticamente giocato la medaglia. La prima posizione di Peng è distante 4 punti, la seconda di Ciao solo 3. Dunque dopo l'argento europeo di Londra l'ottimo piazzamento alle Olimpiadi arriva ora questa medaglia di bronzo davvero storica. Grazie per essere stati con noi, buona serata a tutti.